E quindi hanno ridotto il vino, hanno abbassato. Cerchietto rosso oggi sul calendario degli abitanti di Ponte Sasso. Dopo anni di tribolazioni, allagamenti, esondazioni, stabilimenti balneari devastati dalla furia delle acque, oggi finalmente si è scritto il capitolo finale di questa storia. È stato inaugurato il ponte sul canale del rio Crinaccio ed il suo nuovo alveo raddoppiato ed in grado di contenere, in caso di violenti acquazioni, la portata dell'acqua che scende dalle colline. Per noi, oltre alla soddisfazione personale che ci siamo battuti, come gli dico, dagli anni 90, oggi vedere in una conferenza stampa l'inaugurazione di questa cosa ci rende felici nello sviluppo della zona e anche nel risolvere grossissimi problemi. Io sono uno tra quelli che nel 2014 ho avuto danni enormi dall'indutazione di Fosso Crinaccio. Quando arrivano, ma non c'è un ragionamento di come si opera. Sono un insieme di opere, quelle inanellate ultimamente in questa parte di città, che una volta ultimate daranno alla comunità un volto ed una dimensione completamente nuove. problematiche differenti, ma con le quali l'amministrazione Seri si è subito dovuta confrontare a poche settimane dal suo insediamento, ragionando e pianificando le azioni da mettere in campo per dare ascolto e venire incontro alle richieste degli abitanti. Fra l'altro abbiamo fatto un intervento bello, anche esteticamente parlando, che risolve un problema, attenua fortemente un pericolo, ma nel suo tempo tiene conto anche di altri investimenti che vogliamo fare. L'altro elemento, che mi piace sottolineare, in questa zona della città, come in questi tre anni non si sono mai visti tanti interventi. Svilupperete anche politiche per assecondare la vocazione turistica di questa zona della città? Sì, perché non dobbiamo dimenticare che questa è la zona più ricettiva della città. Però ecco, siccome stiamo mettendo mano alla rivisitazione del piano regolatore, dove si va a dare a tutta la zona, e questa è la vera novità, un'impostazione turistica. Quindi significa che la si va a ripensare sia in termini organizzativi, in termini di investimenti, in termini strutturali, in un'ottica turistica. Grazie.